per il nostro tutorial andiamo ad usare la lana nuvola questa lana è della filati tre sfere voi potete trovare nel box informazioni il link di tre sfere per lo shop al dettaglio tre sfere shop.com ok allora che cosa di particolare questa lana è molto molto morbida mi è piaciuta tantissimo si va ad utilizzare ad utilizzare un uncinetto numero 4 ma io per questa lavorazione vado ad usare un certo numero 6 perché la mia lavorazione effetta sull'etichetta potete trovare vedete tutte le istruzioni che lavabile a 30 gradi non si stira quindi tutte le istruzioni per quanto riguarda questo materiale ogni gomitolo a un peso di 100 grammi devo dire che insomma rende molto molto bene e è un filato un pochino più grosso quindi anche con il 4 il 6 la lavorazione cresce in fretta e non è per niente faticoso lavorarlo allora per il nostro progetto andiamo a mettere su 42 catenelle per la lavorazione che andiamo ad effettuare abbiamo bisogno di un multiplo di due quindi o volete realizzare il mio stesso progetto o volete realizzare un progetto che abbia comunque questo punto trinity anche per cappelli sciarpe dove tenere presente che un multiplo di due quindi voi fate sempre due più due più due più due arrivati a questo punto abbiamo messo le nostre 42 catenelle io entro nel punto vedete subito dopo e carico il filo il lavoro una maglia bassa noi inizieremo sempre la lavorazione con una maglia bassa entro di nuovo vedete nel punto e carico il filo entro nel prossimo e carico il filo entro nel prossimo e carico il filo filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e realizzo una catenella di nuovo guardate entro dove ho già lavorato vedete l'ultimo punto e carico il carico il filo e carico il mio filo entro nel prossimo e carico il mio filo quindi o 1 2 3 e 4 fili sull'uncinetto carico il filo chiudo tutto insieme una catenella vi faccio vedere ancora entro nel punto vedete già lavorato e carico il filo entro nel prossimo punto carico il filo che entrano il prossimo punto e carico il filo o 1 2 3 4 fili sull'uncinetto carico il filo chiudo tutto insieme e una catenella adesso andiamo a proseguire in questa maniera fino alla fine se avete lavorato correttamente alla fine del nostro lavoro abbiamo vedete due catenelle di rimanenza entriamo di nuovo nel punto già lavorato carichiamo il nostro filo di nuovo nel prossimo punto e di nuovo in quello dopo che abbiamo sempre guardate quattro fili sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme e qui non facciamo la catenella ma andiamo a lavorare una maglia bassa nel punto vedete che già abbiamo lavorato quindi nello stesso punto ma maglia bassa quindi sia all'inizio che alla fine noi lavoreremo sempre una maglia bassa quindi sostituiamo la catenella con la maglia bassa adesso io giro il mio lavoro io non realizzo la catenella voi si ha preferite potete anche realizzarla per le principianti preferisco non realizzarla perché si confondono entro guardate nello stesso punto quindi ho girato qui l'uncinetto dentro nel punto subito e realizzo di nuovo una maglia bassa quindi ricordate all'inizio e alla fine sempre una maglia bassa entro nello stesso punto della maglia bassa e carico il filo che entrò nel prossimo e carico il filo entrò nel prossimo e carico il filo quindi la lavorazione sarà sempre alla stessa quattro fili sull'uncinetto chiudo tutto insieme e una catenella non dimenticare di fare la catenella altrimenti poi non vi trovate con i punti di nuovo guardate qui ho lavorato l'ultimo punto entro di nuovo nello stesso punto e carico il filo entro nel prossimo carico il filo entro nel prossimo carico il mio filo di nuovo o quattro fili sull'uncinetto carico di nuovo filo chiudo tutto insieme che catenella quindi il lavoro è sempre uguale adesso arriviamo fino alla fine della riga che rigiriamo alla stessa maniera quando arriviamo vedete alla fine della riga se abbiamo lavorato correttamente abbiamo uno e due punti rimanenti quindi entriamo di nuovo nello stesso punto che abbiamo lavorato e carichiamo il filo entriamo nel prossimo che abbiamo lavorato carichiamo il filo sentiamo vedete nell'ultimo punto visibilissimo e carichiamo il filo abbiamo uno due tre quattro fili sull'uncinetto di nuovo filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e qui non realizziamo la catenella perché l'ultimo punto della riga ma entriamo vedete nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa quindi inizio e fine sempre una maglia bassa giriamo il nostro lavoro entriamo di nuovo vedete nel punto subito dell'uncinetto vedete questo è il punto io entro subito in questo che lavoro una maglia bassa quindi ricordate inizio e fine maglia bassa senza fare la catenella entro di nuovo dove ho lavorato la maglia bassa e carico il filo entro nel prossimo e carico il mio filo entro nel prossimo e carico il mio filo quattro fili sull'uncinetto chiudo tutto insieme e faccio la catenella non vi dimenticate di fare la catenella vi raccomando ok quindi adesso andiamo sempre a proseguire alla stessa maniera vi faccio vedere un'ultima volta nello stesso punto dove ho già lavorato carico il mio filo entro nel prossimo carico il filo entro nel prossimo e carico il mio filo ecco qui quattro fili sull'uncinetto filo sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme e catenella ok quindi adesso io vado a proseguire per un tot di righe fatelo anche voi e poi vi dico in totale quante righe ho realizzato allora ragazzi ho proseguito per un totale di 76 righe che in centimetri sono 62 quindi vedete il lavoro verrà poi ripiegato ovviamente così e da una larghezza per lato quindi ogni lato più o meno avrà circa 31 centimetri 30 centimetri insomma anche perché poi andremo a chiudere la lavorazione quindi se non state lavorando con lo stesso filato rifatevi delle misure allora adesso a questo punto andiamo a fare un giro tutto intorno e lavoreremo intorno a sempre col punto trinity quindi vi faccio una diversificazione di quello che è la lavorazione comune quindi io mi mi trovo qui vedete che ho lavorato l'ultimo punto guardate mi trovo qui nello stesso punto dove ho lavorato l'ultima maglia bassa carico il filo entro guardate nel prossimo punto e carico il filo entro nel prossimo e carico il mio filo ho sempre quattro filo ho sempre quattro filo sul mio uncinetto carico il filo chiudo tutto insieme che faccio una catenella di nuovo guardate nello stesso punto dove già sono cioè dove già lavorato scusatemi carico il filo entro nel prossimo e carico il filo entrano il prossimo e carico il filo chiudo tutto insieme e catenella vado a fare questo perché lo scaldacollo deve avere il bordo sia superiore che inferiore e morbido in generale quando abbiamo andiamo a fare la maglia bassa si rigidisce leggermente e ho notato che se io vado a fare un giro con lo stesso punto mi manti si mantiene morbido qui dentro di nuovo guardate nel punto che già ho lavorato filo sull'uncinetto entro nel prossimo filo sull'uncinetto entra nel prossimo filo sull'uncinetto quattro fili sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme che catenella adesso io vado a proseguire fino ad arrivare all'angolo e nell'angolo giriamo insieme quando arriviamo vedete nell'angolo che dobbiamo girare il lavoro è sempre uguale entriamo nel punto che già abbiamo lavorato entriamo nel prossimo e carichiamo il filo entriamo nel prossimo quindi nel lato vedete abbiamo completato praticamente la lavorazione chiudiamo tutto insieme e una catenella adesso dobbiamo andare a girare il lavoro ed entriamo sempre nello stesso punto dove abbiamo lavorato quindi non cambia niente in effetti entriamo nel primo punto vedete che abbiamo di da quest'altro lato quindi sulla parte lineare entriamo ne in quello dopo fatto questo filo sull'uncinetto abbiamo caricato vedete abbiamo quattro figli e chiudiamo tutto insieme una catenella e di nuovo la stessa cosa dove abbiamo già vedete lavorato entriamo e carichiamo il nostro filo allora abbiamo lavorato qui carichiamo il nostro filo entriamo nel prossimo vedete carichiamo di nuovo il filo entriamo nel prossimo e carichiamo di nuovo il filo di nuovo filo sull'uncinetto chiudiamo tutti insieme e una catenella quindi noi dobbiamo andare a proseguire sempre in questa maniera qui vi faccio vedere di un quindi entriamo nel punto che abbiamo già lavorato fino sull'uncinetto entriamo nel prossimo questo praticamente la parte dove abbiamo fatto la catenella quindi individuate bene dove entrare entriamo in quello dopo e carichiamo il nostro filo ecco qua chiudiamo tutto insieme e catenella quindi vedete adesso abbiamo questa curva possiamo creare anche un paio di catenelle se vogliamo renderlo un po più quadrato diciamo comunque qui e dove andrà fatta la cucitura delle due parti quindi volendo potete anche tranquillamente lasciare come vi faccio vedere perché noi seguiremo la linea guida qui quindi adesso vado a proseguire nell'angolo faremo la stessa cosa quindi se volete fare un paio di catenelle potete fare altrimenti lasciate stare insomma come ho fatto io andiamo a proseguire fino ad arrivare ovviamente dall'altra parte cioè arriveremo qui noi abbiamo iniziato vedete da qui a girare quindi arriviamo qui insieme e poi completiamo il lavoro allora arriviamo vedete nell'ultimo punto da lavorare quindi entro dove ho già lavorato quindi realizzo l'ultimo punto trinity entro nel prossimo entro nel prossimo ancora così chiudo tutto insieme la mia lavorazione e in questo caso faccio la catenella ma taglio quello che è praticamente il mio filo e tiro un po di filo ovviamente abbondante perché adesso andremo a fare la cucitura andiamo prima a chiudere il punto con il nostro ago quindi infilo la guardate io mi trovo in questa maniera qui entro nel punto quello che va sulla parte del punto trinity vedete sopra entro in questa maniera qui e poi rientro al centro di questo dietro così e ho praticamente chiuso vedete il mio punto in questa maniera ovviamente adesso vado a portarmi un po sul davanti in questa maniera perché dovrò chiudere le due parti quindi mi porto vedete così sul davanti io sto usando un ago con la punta proprio per la cucitura ok perché in questo caso va bene adesso ripieghiamo la nostra lavorazione allora io la ripiego sul lato dove praticamente vede sul dritto dove ho lavorato per farvi vedere adesso in questo momento allora dobbiamo decidere se vogliamo che sia visibile questa cucitura perché ovviamente viene il cordoncino o vogliamo semplicemente andare a chiudere la parte sul rovescio quindi se vogliamo chiudere sul rovescio andiamo a piegarla così questo poi lo decidete voi in base ai gusti io adesso lo chiudo sul rovescio quindi dopo girerò ovviamente il lavoro allora come potete vedere la lavorazione è morbida sotto ed è morbida anche sopra quindi sulle aperture la lavorazione sarà morbida ecco perché ho fatto questo tipo di bordo adesso ci troviamo così vi voglio far vedere bene guardate abbiamo sollevo un po per farvi vedere allora io mi trovo in questa maniera qui vedete guardate sono qui ho portato un po il filo più avanti allora qui ho un punto trinity e qui ho il laterale che cosa faccio vado ad entrare subito qui in questa maniera così che vado a così del primo punto adesso guardate in ogni punto noi non faremo altro che andare frontalmente così qui ho detto un punto quindi un altro che vado così io il filo vado nei lati e chiudo così che proseguiamo in questa maniera chiaramente fino alla fine della riga grazie a tutti arrivo vedete l'ultimo punto io mi sono aiutata con marca punti adesso per farvi vedere guardate questa è la parte l'ultimo punto che andiamo a cucire quindi fate anche voi la stessissima cosa quindi mi trovo così entro nel prossimo e dove ho vedete il marco punti e l'ultimo punto che io devo fucire in questa maniera ok quindi adesso sono in questa maniera qui guardate bene entro qui ma lo vediamo se la telecamera mette a fuoco ed ho chiuso vedete il punto quindi rientro di nuovo qui e vado chiaramente poi a nascondere il mio filato se non vi piace che si vede un pochino di apertura così potete salire anche su quell'altro vedete in questa maniera da andare a chiudere ancora meglio a sigillare ancora meglio perché ovviamente gireremo il lavoro e non si vedrà nessuna imperfezione ed ecco qui adesso io entro all'interno vedete del lavoro e vado a nascondere ovviamente il mio filo fate voi anche voi la stessissima cosa tagliato il filo in più ed ecco come si presenta la cucitura ovviamente dal lato del rovescio se invece la fate sul lato del dritto ovviamente si vedrà questa cucitura decidete voi insomma invece se capovolgiamo vedete il lavoro io in questo caso ho fatto così la cucitura insomma quasi non si vede vedete combaceranno anche i due punti triniti quindi io ho preferito fare in questa maniera qui ecco così si vede meglio che guardate quindi decidete voi io ho preferito chiuderla così perché così non si vede la cucitura quindi a questo punto vedete il nostro scala scaldacollo è pronto possiamo realizzarlo per noi stessi per fare dei regali originali ed è veramente molto molto semplice da fare io ho pensato anche di farvi una copertina con questo punto magari nel box informazioni video mi dite se vi può essere utile io vi saluto al prossimo episodio grazie a tutti grazie a tutti